Ragazzi ci siamo, oggi siamo a Heislingen per un grande evento, un evento diciamo così tra le più importanti qui in Sossocard, per quello venite con me, andiamo a vedere un po' oggi cosa si tratta. Qui abbiamo già i nostri metri partiti, siamo da stamattina alle 5 e come finisce quando ci sono eventi importanti, ci sono momenti, attimi, sensazioni, c'è un solo nome, la vecchia taverna, perché tutto il resto è nuovo, qui abbiamo tutti i nostri fogoni, fogoni a frigorifero, fogoni per scaricare e caricare merce, e qui abbiamo la nostra loccice, qua siamo alle spalle della nostra loccice, siamo stoccata, qui abbiamo i ragazzi che stiamo facendo gli ultimi preparativi prima degli avvento, qui abbiamo fatto un piccolo angolo bar, dove oggi serviremo i nostri ossi e le delande, e qui abbiamo la sala con circa 300-320 persone a sedere, l'evento partirà questa sera, però noi vediamo già l'occasione della situazione, Andrea cosa vuoi dire ai nostri amici che ci guardano oggi qui in televisione, Andrea? Ciao ragazzi, tu te l'este a noi? Ah forse, Andrea è qui con noi, anche lui, andiamo a vedere la nostra cucina, fai vedere i nostri tavoli come l'abbiamo decorati, oggi abbiamo un bellissimo mattimone italiano che festeggia qui a Stoccardo, nonché andiamo a vedere la nostra cucina, stiamo preparando le nostre ultime preparazioni, anche Salvatore saluto a tutti gli amici, ciao amici! Allora ragazzi da qui volevo chiudere la giornata, salutarvi a tutti voi e ricordatevi che tutto il resto è noia, ciao a tutti!